Con il Comune di Napoli noi siamo solidi, diciamo periodicamente cercare di trovare delle soluzioni che possano favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale, perché questa è una città come le maggiori città italiane, che è imperversata da numerosi incidenti, spesso molto gravi, quindi crediamo che ci siano vari fattori che concorrono a questa incidentalità, che sono fattori legati all'inesperienza alla guida da parte dei più giovani, alle condizioni generali del traffico e delle infrastrutture e quindi con il Comune abbiamo deciso di assumerci la responsabilità come compagnia di assicurazione di cercare di trovare delle soluzioni che possano migliorare questi livelli che sono l'educazione stradale all'interno delle scuole, che sono il nostro supporto per cercare di migliorare il livello delle infrastrutture e anche l'utilizzo della tecnologia per i taxi per migliorare sia la sicurezza stradale di chi svolge un servizio pubblico, ma anche la sicurezza personale. L'unico grande progetto è quello del piano urbano della mobilità sostenibile. Uno degli obiettivi del piano è quello di ridurre praticamente l'incidentalità in città, riduzione per il 50% entro il 2020 e morti zero, ma questo è un obiettivo per entro il 2050. Una delle cause maggiori dell'incidentalità stradale è legata praticamente alla guida, cioè le modalità praticamente di guida. Il 60% dei incidenti avvengono per questa specificità. L'Associazione Nazionale fra le imprese e assicuratrici, insieme con il Comune di Napoli, organizzerà la formazione per gli studenti delle scuole superiori del napoletano. È quanto prevede l'accordo firmato oggi per aumentare il livello di sicurezza stradale, oltre all'installazione gratuita per i tassisti di 200 telecamere a bordo che saranno utili per intervenire in caso di aggressioni. Percorsi formativi e nuove tecnologie dunque, sia per diffondere la cultura del rispetto delle regole della strada, sia per la sicurezza personale dei tassisti e per ricostruire le dinamiche degli incidenti, a garanzia degli automobilisti. Porterà sicuramente a beneficio della categoria il fatto di poter dimostrare che comunque non è una categoria che fa molti sinistri e quindi un abbattimento del costo delle assicurazioni. In più ci sarà questa cosa di una sicurezza dell'operatore che sicuramente sa oggi chi ha alle spalle, perché chi fa il tassista non sa mai a chi gira le spalle. È una sicurezza passiva e attiva. Io stesso sono stato vittima di un'aggressione in taxi circa dieci anni fa rischiando proprio la vita. Da allora come UTI abbiamo posto attenzione quindi alla sicurezza e grazie alla sensibilità di Octocam e dell'Agna abbiamo portato avanti questo progetto. Napoli in questo momento storico sta vivendo un momento unico da un punto di vista turistico grazie all'impegno dell'amministrazione e di tantissime realtà cittadine, imprese, associazioni, enti. È necessario quindi potenziare i servizi soprattutto di sicurezza al turista e al cittadino ed è per questo che con questo protocollo noi andiamo a fare delle cose molto concrete. Più di 200 telecamere verranno messe sui taxi e soprattutto presentiamo oggi una nuova unità della Polizia Municipale della città di Napoli, la sezione turistica che ha proprio come obiettivo quello di andare a colpire tutte le condotte che ledono l'immagine della città perché fanno vivere un'esperienza negativa a turisti o cittadini stessi. Sono quindi molto orgogliosa grazie al delegato da parte del sindaco Ciro Langella che è questa delega così delegata al trasporto pubblico e iniziamo a compiere dei passi importantissimi soprattutto di strumenti e di servizi accompagnati poi da quella prevenzione e soprattutto educazione da rivolgere ai più giovani per fare in modo che guidare non possa mai essere un'esperienza drammatica per fare in modo che le nostre strade possano diventare più sicure e soprattutto in questo modo la città di Napoli si presenta a quella che è una giornata che è istituita dall'ONU sulla sicurezza stradale prevista nel mese di novembre che grazie al Consiglio Comunale a un ordine del giorno del Presidente della Commissione Sicurezza Claudio Cecere è stato approvato in questa settimana.